Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, siamo qui come consuetudine in questa radio rubrica. Questa volta approfondiremo un argomento fondamentale per comprendere tutto quello che concerne i paesi dell'Est Europa e del Nord Europa, la parte nordica. Questa volta ho qui con me, Domine Dio, in collegamento radio, a cui proporrò a lui di approfondire bene questo argomento, l'argomento di oggi dal titolo Che cos'è la cintola del pellegrino? Chi segue già i nostri appuntamenti sa perfettamente che il mondo è diviso in due aree geografiche, due aree geografiche di differente cultura, ovvero l'area geografica della cintola del pellegrino, il cui epicentro è l'Italia leggermente spostato verso la Turchia, e poi abbiamo l'area geografica della cintola della spugna. È molto interessante riuscire a comprendere bene questa suddivisione geografica perché il mondo si muove tutto a seconda di questa suddivisione geografica. Per esempio, cosa avviene nel mondo reale influenzato da questa suddivisione geografica? Gli abitanti che vivono in una o nell'altra metà, in uno o nell'altro omisfero, sono convintissimi che la cosa più importante sia una cosa sola. Nel caso degli abitanti della cintola della spugna, l'elemento fondamentale più importante, lo vero scopo della vita, è l'alcol, per cui loro si muovono tutti in funzione di riuscire a ottenere l'alcol. Mentre gli abitanti nella cintola del pellegrino sono tutti convinti che la cosa più importante da riuscire a capire, a conquistare, è la gnocca, per cui si muovono tutti in funzione di raggiungere questo obiettivo. Una cosa molto interessante anche di questa suddivisione geografica è anche il fatto che gli abitanti di un emisfero sono convinti che gli abitanti nell'altro emisfero sono idioti, perché da questi si riesce a ottenere qualsiasi cosa dando quello che loro cercano e che invece per quest'altri non ha nessuna importanza. Per esempio fornendo dell'arachia bulgara, ovvero del liquore bulgaro, agli abitanti della cintola della spugna, si riescono ad ottenere dei grandissimi risultati in termini di favore, in termini di corruzione, in termini di privilegi. Si può scambiare alcol per prestazioni, mentre invece gli abitanti della cintola della spugna, loro dicono guarda questi qui, questi idioti che fanno tutta questa strada, devono andare lì per andare lì per una gnocca, ma si vede proprio che hanno tempo da perdere. Cioè è praticamente la divisione di questo, del mondo geografico, dei due emisferi, va compresa per capire esattamente quali sono le motivazioni che muovono il nostro mondo, il mondo attuale in cui viviamo. Questo diciamo è anche una questione filosofica perché sono anni, anni e anni, generazioni, da finché l'uomo esiste, che si cerca di dare uno scopo alla nostra esistenza, gli abitanti dell'uno e dell'altro emisfero si sono dati loro già stessi uno scopo, essendo convinti che la loro meta principale è raggiungere il proprio obiettivo, ovvero la gnocca, la sgrillettata per gli abitanti della cintola del peregrino, mentre invece l'obiettivo principale è raggiungere e conquistare l'alcol, farsela bella braccata per gli abitanti della cintola della spugna. Andiamo ora a intervistare il portore, il teologo, il nostro santone, l'inventore di questa teoria, è stato lui il primo a teorizzarla, questa teoria ha avuto un grandissimo seguito, ci sono adesso molti cultori che seguono tutti i ragionamenti, i discorsi che ne derivano, intervistiamo ora Domine Dio. Salve Domine Dio, buon venuto in questa nostra trasmissione, volevo chiederti di approfondire meglio questo argomento, innanzitutto suddividendo la cintola del peregrino nelle varie aree geografiche, ovvero questa cintola che divide l'area del pellegrino e l'area della spugna, per quali paesi passa e quali sono anche le implicazioni che comportano questa suddivisione geografica. Ecco, quindi diciamo a livello europeo l'area identificata storicamente come cintola del pellegrino corrisponde ai paesi latini e ai paesi del sud Europa in genere, parte la Francia spaccata in due e dopo la Francia arriva la Turchia, riaffino alla Turchia, parte anche alcune aree che potremmo considerare insospettabili come il sud Russia, l'Uzbekistan e si rivolge verso l'area, mentre l'area nord è considerata la cintola della spugna. In base alle teorie storico sembra che tutto sia nato a livello della preistoria per ragioni climatiche. Che cosa significa? Significa che in periodo preistorico il clima giocava un ruolo molto importante, per quale motivo? In genere nel sud dell'Europa c'era l'uomo andava a caccia, la donna raccoglieva i frutti perché faceva la raccolta, perché il clima glielo permetteva. Nel momento stesso, nel caso in cui l'uomo non tornava a caccia, dalla caccia perché era stato mangiato da un dinosauro o era successo qualcosa, la donna aveva il suo modo di sopravvivere, poteva benissimo raccogliere i frutti, il clima glielo permetteva. L'uomo serve solo per riprodurre, a meno che non sia veramente l'uomo più forte del branco. Questo è stato quello da quel momento. nella scintola del pellegrino si è sviluppata tutta una serie di cultura per cui le donne sapendo di avere fonte di sopravvivenza indipendente dalla stessa esistenza dell'uomo e aiutate anche da fattori religiosi, sono diventate sempre più chiuse. Naturalmente è stata anche un'area molto invasa, quindi storicamente ricordiamo che è stata l'area a più alto numero di invasioni, quindi che cosa succedeva ogni tanto? Veniva qualche popolo, quindi era un bene prezioso per i maschi da poter proteggere nella storia, quindi lo stesso concetto di burka, lo stesso concetto di velo che cosa significa? Significa una protezione perché l'area è pericolosa, arrivano questi vandali, queste popolazioni che raviscono le donne, ma la donna è mia, la donna è un oggetto. Per la donna, d'altro canto, l'uomo in quest'area non aveva raggiunto un'utilità molto forte a parte che per questioni sessuali, quindi che cosa succede? Che la donna poteva benissimo vivere, quindi essendo per l'uomo stata una donna una questione preziosa, sono nate tutta una serie di religioni che cercavano di separare la donna rispetto agli altri, rispetto all'altra parte della popolazione civile, a trattarle proprio come oggetto. Vediamo che, ad esempio nell'Islam, che un uomo può avere fino a quattro mogli, però ognuna deve essere trattata, avere un certo stile di vita, un certo tenore di vita nel cristianesimo, in cui si parla della virginità della donna e dell'esclusività della donna per presso un uomo. Cioè vediamo tutta una serie di concetti nella storia, anche negli stessi antichi romani, prima del cristianesimo. La donna romana era un bene prezioso, doveva essere tutelata, doveva essere difesa da eventuali invasioni. Scusa se ti interrompo, siamo proprio arrivati già al periodo romano, a me risulta una cosa molto interessante, circa la cintola della spugna, ma è vero che i romani ingaggiavano, arruolavano nei loro eserciti carne da macello, offrendo loro dell'aceto andato male? Sì, sì, si è proprio tovarato nelle zone di confine con la scintola della spugna, si è proprio trovato che i romani facevano dei reclutamenti in cui loro reclutavano proprio queste popolazioni, gli offrivano dell'aceto andato male, del vino di bassa qualità. E troviamo degli scritti ad esempio dall'Irlandia, dall'Irlanda oppure anche all'odierna Romania, in cui si vede trascritto di questi fortini, in cui si vede trascritto che i soldati che facevano reclutamento scrivevano generali dicendo, questi sono ottimi soldati, una volta che li metti in prima linea, li riempi di aceto, questi sono capaci di distruggere tutto. Quindi abbiamo delle popolazioni che potremmo essere, ad esempio delle popolazioni di confine tipo i Daci o tipo i Scelti, che sono automaticamente le prime popolazioni storiche che noi identifichiamo come i membri della scintola della spugna. Diciamo che sono i protospugnani? Sì, diciamo che sono i primi discendenti, i primi per cui l'alcol per loro era una cosa importantissima. E se uno è interessante vedere quello che si scrivevano i romani, scrivevano il comandante locale al comandante dell'esercito centrale, che se noi vediamo le descrizioni fatte all'epoca, con le descrizioni fatte adesso delle varie popolazioni, sembra che noi ci ritroviamo. Corrispondono le caratteristiche salienti, somatiche e comportamentali delle varie popolazioni, ritrovano un riscontro nel mondo attuale. Sì, che ritrovano una cosa assolutamente impressionante dalla ricerca. Si vede queste ricerche, questi scambio di idee, che fa risultare che sembra di essere giorni nostri. E fa risultare di essere giorni nostri anche dei comportamenti, perché notiamo che i romani e i mongoli, verso le zone dove sono attualmente associate le popolazioni slave, facevano costantemente dei raid. Ma questi raid cosa miravano a fare? Miravano, la prima cosa che miravano a fare era derubare le donne. E era una cosa molto interessante che tutte le truppe di frontiera che cosa facevano? Offrivano, si presentavano pur via pacifica, per cui sia offrivano bevande di tipo alcolico, sia i mongoli che i romani, alle popolazioni. L'altra parte entrava dall'altra parte della città e incominciava a rapire le donne. Oltretutto queste donne, ricordiamo che sia per i mongoli che per i romani, venivano schiavizzate e venivano rese come prostitute. Quindi già da allora già notiamo che questa mancanza storica delle donne in sud Europa a causa di questioni climatiche, questioni sociali che hanno portato alla nascita delle religioni già si ritrovava. Prendere, entrare in un'area sconosciuta, di popolazioni sconosciute, attrarre gli uomini con una strategia, farli ubriagare per poi e derubare tutte le donne della città. C'è anche nel famoso film Attila, flaggello di Dio, in cui si vede il rapporto tra i romani e le popolazioni sceltiche. Lì non parla dell'alcol, ma si vede che rubano le donne, vedi loro che fanno. Ah vabbè, ci hanno preso la donna, come per dire, non è nulla di importante. Se sì, potevano prenderci la botte e a quel punto lì era un disastro. Mentre invece, riallacciandoci sempre sul ruolo della donna nella fascia della cintola della spugna, c'è il famosissimo detto che è madre certa, padre ignoto. E questo è un tema che si riallaccia sempre al tema della cintola della spugna, ovvero l'alcol. Potreste approfondirlo un attimino fino ad arrivare anche a toccare l'aspetto noto ora come Yuligans? Sì, diciamo che noi troviamo di fronte, anche in questo caso, un'origine storica che riguarda il periodo del preistorico. Per quale motivo? Quelle zone associate come cintola della spugna sono state tutte zone in cui preistoricamente il clima era terribile. La prima fonte di sostentamento per una donna era l'uomo, era avere un uomo. Poi che cosa succedeva? Che questo, quest'uomo partiva, veniva sbranato da qualche bel vafeloroce, e se la donna è quindi, questo ha creato nel corso degli anni una sovrapproduzione naturale di genere femminile rispetto agli uomini. L'uomo che era sbranato costantemente, quindi le donne erano in sovranumero, queste donne, per farsi scegliere, a un certo punto sono iniziate a nascere le donne con capelli di color diverso, capelli biondi, capelli rossi. Per quale motivo? Per segnalare una maggiore presenza di ormoni femminili all'interno della donna. Se infatti noi notiamo anche il detto americano ad associare le biondi come stupide. Perché? Perché il colore biondo associo naturale, poi parlo naturalmente, a una maggiore presenza di progesterone con ormoni femminili, un colore biondo naturale. Questo che cosa ha portato? Ha portato che, al contrario, una sotto abbondanza di uomini, quindi il loro atteggiamento nei confronti della donna e degli popoli della cintola del pellegrino è abbastanza schifato, ma per quale motivo? Perché loro si trovano in una situazione in cui vedono questa sovrabbondanza costante di donne, quindi l'età media, si spiega anche che l'età media per un rapporto sessuale in Inghilterra, Norvegia e in Russia, parliamo che si trovano in un'età di 13 anni, un'età molto bassa, quindi quando loro arrivano all'età di 28 anni, loro corrispondono a livello di esperienze a quello che può essere un italiano di 50 anni. Cioè, interesse, però sappiamo di che cosa si tratta. Al contrario, questo però divende, questo anche all'interno della cintola della spugna, portato alla nascita di due aree. L'area protoslava, che si riferisce, diciamo, ai paesi puntualmente associati come slavi, e l'area anglo-scandinava. Esiste una differenza di fronte, che questo modo, questa sicilità così sviluppata creava un altissimo numero di bambini senza padre, bambini senza padre, madri addette all'arcol, mancanza di uomini e mancanza di uomini. O il padre probabilmente o era morto, o c'era, ma vista che la madre era ubriaca nel momento del concepimento, non si poteva risalire con esattezza a chi fosse il vero padre. Cioè, l'ipotesi poteva cadere su un ventaglio di diversi uomini, però con certezza, mentre oggi abbiamo la possibilità di fare l'analisi del DNA, ma con certezza il padre, diciamo, era uno, una persona probabile, tra un ventaglio di diversi padri, però non si poteva identificare, quindi non era il padre di uno, ma il padre erano tutti. Infatti, poi non solo questo, poi succedeva che comunque passavano diverse invasioni, quindi se noi vediamo le zone di confine, ad esempio nella zona di confine nord, fra la Russia e gli stati baltici. Avevamo i svedesi che facevano le scorrerie, stupravano e tornavano indietro, i russi facevano la stessa cosa, quindi uno che usciva anche in seguito a una certa scorreria, che cosa... sul sistema erano seri dubbi anche su chi fosse il padre, che addirittura poteva essere una persona ad un'altra popolazione. Questo però ha portato a due risposte diverse, la prima risposta è stata la risposta russa, slava, la ricerca di un padre, non esiste un padre a livello sociale, la ricerca di un padre a livello nazionale, quindi abbiamo i vari i vari presidenti russi che vengono tutti raffigurati come stampa, sempre in un atteggiamento paterno, per dire tu non hai un padre effettivo, ma il tuo padre è il presidente, è il re, vediamo lo stesso cosa nelle immagini, le stesse immagini di Pietro Grande, con severità, anche la stessa cosa che, se noi leggiamo gli scritti di Pietro Grande, si considerava padre dei russi. Cioè, sì, ma anche lo stesso Stalin nel periodo più recente è la raffigurazione in persona del padre di tutti i figli slavi. Infatti, del padre, duro ma giusto, duro ma giusto, perché? Perché la società mancava, perché riusciamo a ottenere che c'è circa un 60-70% di, sono paesi in cui c'è un 60-70% di persone sicuramente senza un padre effettivo. Poi consideriamo che poi questa percentuale si sia ridotto con l'arrivo della scintola del pellegrino, perché nella stessa Russia abbiamo tartari, armeni, giorgiani, che comunque fanno parte di quell'area, quindi con la conquista la percentuale si è ridotta, diciamo, intorno al 50%. Però ricordiamo nei periodi slavi o nei periodi prima della conquista del Sud che lo stesso Ivan il Terrible, Ivan Grozny, il temuto Ivan, parlava ambiamente, con i suoi consiglieri, sono state lettere in cui si parlava ambiamente di questo problema, che la gioventù doveva essere temprata dallo Zara, perché c'erano molti troppi senza la presenza di un padre. Ma secondo te lo stato sociale nei paesi nordici così forte e così assistenziale nei confronti proprio di questa gente giovani senza un futuro, senza un padre, è l'eredità di questo fenomeno? Sì, quello è chiaro che sia l'eredità di questo fenomeno. Per quale motivo? Perché era, diciamo, la situazione esattamente equivalente alla situazione russa. L'unica differenza qual era? Che essendo stata l'Inghilterra sotto dominio romano e essendo Roma c'era già di certi concetti di parlamenti di parlamento, tipo il senato romano, i commizi centuriati, erano presenti anche nell'area inglese, cosa che non era assolutamente presente nell'area slava. Non potevano dare una risposta di tipo assolutamente autoritaria al problema. Quale risposta avrebbero potuto dare? Quale avrebbero una risposta diversa, una risposta in cui potevano, una risposta in cui queste persone potevano sopravvivere, queste persone per cui fu decisa per una risposta di tipo assistenziale. Per cui oggi una donna va in Danimarca e è incinta, non sa qui che il padre, ha diritto benissimo ad avere la casa, ha diritto ad avere un assegno che permette di mantenere la vita perché lo Stato si sostituisce in termini economici a quella che poteva essere la presenza di un padre. Se noi leggiamo il numero di ragazze madri presenti negli stati del nord, fra cui Irlanda, Inghilterra, stati scandinavi, noi impallidiamo e sono trattati negli stati, tipo gli Stati Uniti, in cui c'è mista, sono trattati come problemi, c'è una cultura di tipo mista, sono trattati come problemi. Per quale motivo? Perché la presenza è abbastanza rilevante, 50-60%. Questo naturalmente ha portato anche a un abuso, perché? Perché la mancanza di modi autoritarie ha fatto sì che le varie ragazze, con un certo atteggiamento, dato anche da una presenza, diciamo, ormonale maggiore, abbia portato ad avere un atteggiamento di sbronze di parti successivi, quindi una volta iniziato con il primo si considerava che continuava col secondo, con il terzo, quindi noi troviamo nell'Inghilterra donne che hanno cinque figli a uno a uno di padre diverso. Questo ha portato a una situazione di stallo che naturalmente, essendo la maggioranza di queste donne immature, non essendo presente la figura forte come potrebbe essere il presidente russo, ha portato questi bambini a mancare di un riferimento paterno e a bichellonare strada, perché noi pensiamo la madre che sta a ubriagarsi tutto il giorno, che prende gli assenti sociali e si dispende. Questi bambini si nuotano ampiamente nelle strade inglesi, nelle strade tedesche o nelle strade di Coscandino, questi bambini che girano tutti da soli, che compiono atti vandalici e questo ha portato ad un incremento del vandalismo. Questa situazione nel corso del tempo è diventata talmente estesa che loro hanno assunto il titolo di Ulligan, perché poi che cos'è l'Ulligan in realtà? È il bambino randaggio e vediamo anche in questo caso la presenza di una società schizofrenica, vediamo che la donna, vediamo che il randaggismo non è presente, però vediamo tutti questi bambini che girano, compiono danni, assaltano i turisti, perché è stato considerato uno dei primi problemi in Inghilterra, i bambini randaggi che assaltano i turisti, delle situazioni abbastanza pesanti. Ricordo un mio amico che in Italia lavorò come assistente sociale, trovandosi in Inghilterra come assistente sociale, mi disse scandalizzato che c'è molti di questi bambini che sono con le proprie matri e con le proprie... in Italia il giudice toglierebbe loro la sua patria protesta, mentre qui sembrano cose assolutamente normali. Sì, perché se dovessero togliergli la patria protesta alla madre senza il marito, la metà dei bambini sarebbero tutti messi in un riformatorio. Sì, infatti sono la maggioranza, tutti... sì, sì, se non solo messi dentro il riformatorio. O ingaggiati nell'esercito. Sì, no, ma infatti è stato un modo che è stato risulto nei tempi dell'impero inglese fu da ingaggiarli automaticamente tutti nell'esercito. Tutti gli orfanelli, tutti i bambini randaggi venivano adibiti a un'educazione di tipo militare. Poi la cosa è stata torta negli anni... è stata torta negli anni Sessanta. Ma questo ha portato... Sì, ha portato un esubero di ragazzi randaggi, figli di ragazza senza un marito, la cosiddetta sgrillettata del momento. Ha portato a uno svilupparsi di questo randagismo in maniera esponenziale, perché la città... Questi nascono in continuazione, però non trovano un impegno in altri luoghi, per cui le città proliferano di ragazzi randaggi, figli di madre alcolizzata senza un padre. Esatto, esatto, di padri di urbi, non si sa nemmeno chi sia il padre. Hanno fatto un test in Inghilterra, in Danimarca, in cui risulta che il 90% dei bambini non è figlio del padre dichiarato. Secondo me ci sta anche di più, perché... Potrebbe benissimo essere. Lì la probabilità può essere uno qualsiasi, tranne quello che si direbbe quello più probabile. Sì, sì, esatto, esatto. Perché poi è detto chiaramente, se una donna, anche quella che sta con un uomo, ma quando è che si fa mettere incinta? È sempre in quell'attimo che è più ubriaca, che non è in grado di connettere con la realtà e si fa fecondare in quel momento dal primo che gli ronza attorno. E generalmente non è mai il suo compagno se ne dovesse avere uno. Sì, ma poi si vedono delle scene, se noi vediamo nelle città, una volta fu fantastico vedere una situazione in cui noi abbiamo visto, fu nelle strade di Londra, in cui c'era, vediamo un ragazzo spagnolo, parlava con una guardia, ubriacarsi, perché? Perché lui disoccupato, che viveva in segno di disoccupazione, aveva messo incinta la moglie di un inglese e parlava proprio della situazione in cui faceva. Ah, lei è tutta contenta che lei, posso dire, è incinta, l'ha detto anche al marito. E poi facevano due certe discussioni parlando col buttafuori, chissà se il marito sarà contento se sa che il figlio è il mio. Vediamo qui lo scontro da due culture, vediamo la donna che prende la cosa come se fosse normale. Il ragazzo spagnolo della cintola e pellegrino che sento una violazione di quelli che sono i suoi principi. Quindi questa descrizione fu uno dei miei primi soldi nella cintola della spugna nelle varie discussioni tra uomo e donna delle botte. Un botte, ognuno di noi potrà dire che siamo tutti d'accordo sul fatto che non sia un modo giusto di comunicare, che sia anche sbagliata. Però quello ti dirò, dipende da un fattore culturale. È chiaro, è chiaro, è chiaro che è un fattore culturale. Cioè dopo loro li vedi, ad esempio anche noi parliamo di un paese come l'Inghilterra, che pure è famoso per i diritti civili, per la tutela, per cui parliamoci chiaro che in Inghilterra un'azienda non può discriminare nessuno per età e non può anche, diciamo, se nel caso in cui si trova con uno scostamento del 10% rispetto alla demografia nazionale viene multata, viene controllata. Quindi diciamo cose di alto livello, perché se noi pensiamo all'Italia, pensiamo anche alla stessa Russia, nel senso sono frequenti le offerte di lavoro, il tipo cercasi uomo, cercasi donna, non oltre questa età, non oltre questa età. Diciamo sono cose che in Inghilterra, eppure anche in Inghilterra, nonostante l'evoluzione da questo punto di vista piuttosto altra, vediamo per strada, delle volte, chiaro e tondo, uomini e donne venarsi. Beh, ma quello da parte dell'uomo ha anche un file propedeutico, questo più che altro però nei paesi slavi ha un fine propedeutico, come dire, anzi, io so di casi conclamati in cui è la donna a lamentarsi di mancanza di polso da parte dell'uomo, e in questo caso la donna accusa l'uomo di non nutrire nei suoi confronti abbastanza affetto. Sì, no, ma questo è un caso culturale, perché naturalmente per loro è una forma di comunicazione normale, per cui se tu non comunichi in quella maniera, tu sei strano per loro. Sì, la donna slava, c'è il detto, la donna slava dice, se mi meni mi ami, se non mi meni non te ne farei niente. Io ho un esempio, ma non solo la donna slava, c'è anche il detto, la cosa costante che si può riscontrare, ad esempio anche in Inghilterra conosco una coppia di una ragazza inglese che stava con Russo, è che una volta lui a lei ha spezzato un braccio e lei praticamente ha reagito spezzandogli una gamba, e il giorno dopo, loro hanno due figli, il giorno dopo li vedevi per strada normale, da morire d'accordo, come se niente fosse successo. Perché? Perché per loro quella era una normale discussione. Da noi, nella cintola del pellegrino, ci sono le allegorie di questi che, qual è la coppia tipica che possiamo trovare negli stati della cintola della spugna, se noi vediamo camera caffè, possiamo dire Paolo Pitta, che è Paolo che si logo, che fa il venditore ignorante, con la moglie, quando parla discutono, non è che discutono è normale, scusa, mi dispiace, ma si menano, perché? Perché per loro, quella è la discussione normale, quella è la discussione normale, lui che gli tira un destro, lei che gli tira la padellata, e uscire fuori da quei quali in discussione per loro è una cosa, è una cosa sbagliata, perché? Perché significa che l'uomo non ha porzo, significa che la donna non è assolutamente interessata, significa l'uomo è un debole. per la donna significa, accanto, che se la donna anche lì non reagisce, in termini di bestionare, significa che anche lì alla donna non interessa l'uomo. Sono dei concetti che per noi sono strani, però erano delle forme di comunicazione che loro avevano agli inizi della formazione, che gli sono rimaste. Ci spostiamo ora un po' più a sud, torniamo ora nella fascia della cintola del pellegrino, dove chiedo a te quali sono i caratteri salienti del cosiddetto pellegrino, che per chi magari non ha seguito i nostri ragionamenti precedenti, il cosiddetto pellegrino non è l'uomo, il maschio, non è quello colui che viaggia per conventi, monasteri, a scopi religiosi, ma è l'uomo tipico alla canna del gas perché è privo di una vita sociale normale, privo, impossibilitato a rapportarsi con il sesso opposto. Molto spesso lo troviamo in viaggi a fine sessuali, soprattutto nei paesi dell'est, oppure Thailandia, oppure nel Centro America, il cosiddetto pellegrino è quell'uomo che vivendo una vita priva di rapporti con il sesso opposto, ha basato la propria esistenza tutta sulla donna, tutta sul fatto che la donna l'ha resa un oggetto da venerare e da inseguire, da raggiungere. Quali sono, secondo i tuoi punti di vista obiettivi, le caratteristiche salienti che si configurano nel cosiddetto pellegrino? Beh, la prima, certamente la più importante caratteristica è che tutte le volte che lo vediamo al di fuori della propria cerchia, reagisce come se non avesse mai visto una donna. per gli altri, vedi, camminano normale, normalmente. Ricordiamo un'attrice, ricordiamo anche una modella francese che usava a dire alle sue amiche, ah, io alle mie amiche, nel senso che sono depresse, che non sentono, non hanno un uomo da tanto tempo, dico davvero di venire in Italia e si sentono meglio, per quale motivo? Perché in... E in Italia scoprono di avere un potere che nel loro paese non avevano. E certo, perché è diverso il filone culturale, cioè noi abbiamo che in Italia, nel sud Europa in genere, era cinto nel pellegrino, la donna c'è effettivamente potere, ma per quale motivo? Perché mancano incontri, quindi, diciamo, sono stati ampio uso religioso, per cui vediamo, studiamo ad esempio l'Italia, la presenza del Vaticano, un forte tradizionalismo, come possiamo vedere in varie zone anche dei Balcani, e oltretutto quindi un certo concetto di donna proprio come bene, che è racchiuso anche nell'idea stessa di religione, controllo la donna perché controllo un bene. Alcuni detti stessi che noi ritroviamo anche nella nostra Italia, che sono la donna che costa meno è quella che paghi prima, oppure le donne sono come le macchine degli anni 50, più soldi sai, più pelle con più accessori da compri, ma costa di più benzina, assicurazione, e c'è più gente che te la vuole rubare anche solo per farsi un giro, oppure le donne sono tutti due tipi, quelle che volano, le prostitute, noi vediamo una caratteristica costante che è quella della considerazione della donna come un oggetto da comprare, che è una costante, quindi non solo, che deriva dal punto quando è che si compra un oggetto, quando ce n'è mancanza, ce n'è mancanza in giro, ce n'è mancanza nei rapporti, se noi utilizziamo, siamo disposti ad andare nei vari locali italiani, ci accorgeremo che esiste in Italia, in Turchia, in Bulgaria, in Serbia, tutte le cose che si trova è una perfetta preponderanza maschile, una perfetta preponderanza maschile, questa preponderanza maschile, che uno pensa, dice, ma come mai le donne non escono, come mai le donne non escono, ci saranno le donne, perché poi noi se vediamo la demografia, c'è la fine uno scostamento che è pari, tra la cintola del pellegrino e della spugna, pari del 5%, per quale motivo? Perché anche lì le famiglie tendono a controllare queste donne, quindi il pellegrino si trova in tutto questo ambiente, per cui abbiamo che se non è abbastanza soldi, la madre della ragazza gli dice, chiaro e tondo, lascialo fare questo morto di fame, sono casi vissuti e conosciuti anche da me, che riguardano nella mia città comune, in cui coppie italiane, quindi due esponenti, insomma, nella cintola del pellegrino, in cui la madre fa pressione sulla figlia affinché lasci il ragazzo, perché non è un lavoro. Allora in Italia il 90% dei ragazzi sono condannati. Sì, e quindi questo porta, quindi questo porta una condanna, oppure se noi vediamo un altro paese della cintola del pellegrino, vediamo anche la Bulgaria, anche qui vediamo un certo tipo di atteggiamento da parte delle donne, la richiesta della macchina, che diventa storico, cioè la donna è stata fatta oggetto, la donna fatta come oggetto, io sono buona, ci stanno poche donne, devi pagare. Quindi vediamo. Tra le altre cose la Bulgaria è anche famosa nella zona di Burgas, la zona sul mare nero, nella zona sud. Per il famoso campionato del pellegrino. Eh sì, c'è il campionato del mondo, lì si gioca il campionato del mondo del pellegrino. Dove vediamo insomma tutti a cercare di accaparrare turiste straniere, dalla cintola della spugna arrivano italiani, turchi, bulgari, serbi, albanesi, ed è una cosa che si dividono le strade e poi vanno a punteggio. Sì, 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 lì troviamo tutte le zone più conclamate della cintola del pellegrino che vanno a caccia invece delle numerevoli ragazze provenienti dalla cintola della spugna, tra cui Russia, Germania. Sì, Russia, Germania, Svezia, Norvegia, Inghilterra, chi più ne ha può ne metta, perché poi parliamoci chiaro insomma, non stiamo parlando che sono uomini che vivono in un totale ambiente, questo ambiente lo vivono da quando hanno, ci sono nati, rimangono, una volta entrati in contatto rimangono scioccati di quello che possa essere insomma il mondo al di fuori della cintola del pellegrino e quindi noi vediamo che a un certo punto come i nostri antenati romani facevano le razzie per prendere le donne ubriagando, c'è qualcuno che va direttamente fuori di testa, difende un rapporto, una vita sociale e scopre a un'età tarda quello che nella cintola della spugna viene scoperto in giovane età, 14, 15, 16 anni, viene scoperto un certo rapporto con l'altro senso, nella cintola del pellegrino questo rapporto è spostato e poi molto spesso i primi rapporti vengono quasi tutti svolte con le prostitute, c'è una forte presenza, molto più forte presenza di prostitute rispetto agli altri paesi, se noi vediamo l'Italia, vediamo la Spagna, vediamo anche uno stato che per molti potrebbe essere insospettabile come la Bulgaria ha, cioè sembra a 30 metri e vede una prostituta, cioè sembra ad essere insomma come mai tutta, perché c'è una richiesta molto forte, c'è una richiesta molto forte di uomini che non trovano, diciamo un servizio viene posto a pagamento quando non è naturale, quando non si trova, quindi troviamo uomini che nonostante abbiano bassi salari, sono disposti a spendere anche quei 50 euro l'ora a settimana, sono disposti a spenderlo come una prostituta, perché è l'unico modo per avere un contatto. Comunque, tornando sempre alla Bulgaria, a me risulta che lo Stato, il governo bulgaro ha attuato un piano anticrisi che ha avuto un estremo successo, ovvero detassare l'alcol, togliere la cisa dagli alcol e dare sussidi per la produzione di alcol a bassissimo costo, quest'alcol nei periodi estivi, nei periodi vacanzieri, va a rifornire tutti i locali, gli hotel, i vari posticini sul litorale, arrivano più mare, c'è alcol a non finire a bassissimo costo, quest'alcol a bassissimo costo in automatico attrae tedeschi, inglesi, russi, ucraini, lettoni soprattutto e parliamo di quindi attrazione di giovani amanti dell'alcol prevalentemente di sesso femminile perché in questi paesi è il sesso femminile che prevale e in automatico questo status provoca, scaturisce anche l'incoming di turismo da parte di turisti maschi da parte della cintola del pellegrino. Quindi abbiamo... questo che ha provocato il cosiddetto campionato del mondo di pellegrino, arrivano in loco turchi, greci, rumeni, italiani, spagnoli, arrivano lì tutti come dannati, tutti che rantolano cercando di avere contatti con le donne, di riuscire a mettere le mani su una donna la prima che gli può capitare, che poi tra le altre cose, essendo quasi perennemente lì in giro in stato di ebrezza, visto anche l'alcol a poco costo e lo scopo del loro viaggio che era proprio quello di andare a sbracarsi, questo connubio sta dando i suoi grandissimi frutti. Sì, sì, se noi vediamo potrà risultare più una cosa abbastanza strana, ma la Bulgaria al paio si è meno indebitata in Europa. Per forza arrivano lì tutti a spendere, arrivano a fiumare di gente disposta... Poi tra le altre cose, il pellegrino, tra i connotati tipici, è un individuo che lui durante l'anno risparmia su tutto il pellegrino, tu non riesci a tirargli fuori dalla tasca un euro, che sia un euro, ma neanche se te lo prendi per le caviglie, lo rigiri sotto sopra, lo strontoni, dalle tasche si sa non gli tiri fuori neanche un euro, non gli escono fuori neanche gli spiccioli. Però il pellegrino ce la fai a fregargli tutto, tutto quello che ha risparmiato, mettendo davanti agli occhi una gnocca. In quel caso lì lui, davanti a una gnocca, lui è disposto a pavoneggiare, farsi più grande di quello che è fare il gradasso, lo sbrufone, per mettersi in bella mostra, è uno che in quel caso lì riesce a spendere cifre enormi che sono il frutto di tutti i suoi risparmi dell'anno per farti la vacanza. Sì, sì, esatto, esatto, ma per quale motivo? Perché parliamo da un'origine, da un paese in cui, oggettivamente parlando in proporzione, le donne, insomma, per i giovani mancano, non c'è un contatto, quindi lui, la donna da piccola l'ha idealizzata, quindi troviamo, ad esempio, se parliamo del caso dell'Italia, in Italia, si trovano anche uomini intorno ai 35 anni che non abbiano mai avuto un rapporto con una donna. Eccetto le prostitute, chiaramente. Eccetto le prostitute, io conosco, nel senso, dico, delle persone della mia città in cui sono frequenti e abituali di prostitute, però invita loro se gli chiedi con quante ragazze hai avuto rapporti, chi sei stato. Nessuno che ti parli di una relazione che loro hanno avuto con gli altri, insomma, con queste donne, perché, dice, io da quando ho questa età vado solo a prostitute. Cioè, per cui noi una cosa può sembrare, diciamo, per i devoti, per i religiosi o cregati abbastanza assurda, però in realtà è proprio l'effetto della presenza nella scintolare del pellegrino di questa forte presenza quericale, di questo controllo su quello che è un bene all'inizio associato come scarso, che è la donna, e sulla ricerca, quindi, di un controllo totale su questi beni. Quindi questo fa nascere un appetito che porta a una domanda molto più alta di prostitute che in altri posti. Cioè, ricordiamo che se noi verriamo in altri posti, nella scintolare della spugna, la prostitute è una cosa per ricchi, mentre da noi, cioè nella scintola del pellegrino, vediamo che è una cosa retail. È proprio una cosa per la grande distribuzione, diciamo. Infatti, infatti. Ma questa suddivisione del mondo geografico in due grosse aree non sta creando una lotta di poteri, ovvero il mondo del pellegrino contro il mondo della spugna e viceversa, come poteva essere, per esempio, nel dopo Medioevo, quindi la lotta che vi era tra mondo cristiano e mondo musulmano. Non abbiamo creato una suddivisione del mondo in due emisferi in lotta fra di loro? Eh, di fatto sì, queste persone sono il lotto fra di loro, noi vediamo con il loro modo di pensare che la lotta anche adesso riguarda piuttosto costante, perché ad esempio vediamo la Germania che tende ad assumere, un paese della scintola della spugna che tende ad assumere il predominio e vediamo al contrario, nel senso, gli altri paesi della scintola del pellegrino che stanno subendo questo predominio tedesco, per quale motivo? Perché vediamo che la Germania risulta essere un paese della scintola della spugna vincente e ricordiamo che la prostituzione in Germania fa un terzo, cioè fa buona parte del PIL che si rifà principalmente a clienti del sud d'Europa rispetto a quella che può essere uno stato del sud d'Europa, uno stato del sud d'Europa, è l'unico stato che al contrario troviamo in attivo, è l'unico stato contro la Germania, è proprio la Bulgaria perché sta facendo delle politiche di conquista commerciale della... Ad ognuno offre quello che cercano, alle sgrillettate offre l'alcol, ai pellegrini offre la sgrillettata e quindi abbiamo questo grandissimo punto d'incontro. Sì sì, che diventa un grandissimo punto d'incontro, fra l'altro anche bellissimo, lì esulto tutti insomma a visitare insomma la Bulgaria, grande e bel paese da poter visitare, ecco. Ma invece per quello che riguarda diciamo tutto questo fatto qui che i paesi della cintola della spugna basano il loro tessuto sociale offrendo il cosiddetto warfare alle cosiddette sgrillettate che non hanno un marito e hanno quindi da mantenere un bambino che non ha il padre, si crea tutto questo grandissimo tessuto sociale, però questo tessuto sociale noi sappiamo che ha dei costi, ha dei costi che in un qualche modo lo Stato facendo da padre, prendendoli le vece del padre, si è assunto l'impegno di mantenere, però alla fin fine per rientrare dei costi lo Stato comunque è costretto a mettere mano nel portafoglio a chi i soldi veramente ce l'ha. Non si crea diciamo una caccia al cosiddetto untore se rivolta nei confronti dell'evasore fiscale. L'evasore fiscale non può essere visto in questi paesi del nord come una sorta di appestato che va estirpato e distrutto a qualsiasi costo. No, lì è diverso perché, per quale motivo? Ma innanzitutto perché ci sono delle prestazioni, lo Stato offre sicuramente delle prestazioni. L'unica cosa che in realtà, la cosa che possiamo notare è che l'asperodi differente nel loro concetto di welfare è un concetto molto più efficiente di quello che possiamo trovare nel sud europeo. Nel sud europeo troviamo come welfare la sostituzione delle classiche pensioni, delle classiche rendite nobiliari, quindi troviamo pensioni sopra i 50 mila euro al mese, 60 mila euro al mese. Anche in Bulgaria troviamo pensioni di 5-6 mila euro che per il paese sono una cifra grandissima. In Spagna ad alto livello, per gli anziani in funzione del reddito. Nei paesi del nord Europa, al contrario, nessuna delle pensioni è in funzione del reddito, ma in funzione degli anni di lavoro. Il sistema danese da tutti è loggiato come un sistema. Che cosa comporta? Comporta che per ogni anno di lavoro tu, indipendentemente dal lavoro che hai fatto, se hai lavorato 40 ore a settimana, maturi 60 euro al mese di pensione. Se hai maturato in base all'ora che hai lavorato, 60, ne hai lavorate ad esempio 20 ore, maturi 30 euro e via. Così indipendentemente puoi essere stato dirigente. Questo permette di avere una migliore copertura e un ridotto costo rispetto a quelli che sono gli stati del sud Europa. Oltretutto consideriamo che loro fanno anche ampio uso di assistenza, che l'assistenza è molto più estrema di quella che può essere in Italia. Non esiste il concetto di casa popolare, ma se noi veniamo in Danimarca non è possibile tenere sfitta una casa per più di sei mesi. In altro caso interviene lo Stato che ha persone a cui serve la casa, ti dà, dice lui va nella tua casa e io ti faccio una busta paga in cui ti pago per questa casa e ti do il netto rispetto alle tasse che devi pagare. Ti pago l'affitto di mercato e via. Però ti lo pago al netto delle tasse. Questo ha portato anche, statisticamente parlando, questa organizzazione avere una riduzione di quelle che sono i rischi di fuga dei capitali. Perché poi anche chi apre un'attività, se sa che può beneficiare dell'assegno di disoccupazione se paga le tasse, diciamoli o involve veramente. Ricordiamo inoltre che le paga veramente. Ricordiamo inoltre che i controlli sono piuttosto altri. Perché non esiste un limite ai depositi, ma esiste il controllo su tutta la movimentazione di capitale che fai in un anno. Se questa movimentazione di capitale non è confacente al tuo reddito, tu sei chiamato dall'ufficio delle entrate. Cioè diciamo i metodi di controllo risultano essere molto diversi. Quindi fanno uno Stato che sicuramente è più efficiente. Quando vediamo Stati tipo l'Italia che non riesce a sapere effettivamente quanti dei suoi cittadini risiedono all'estero quanti no. Il cosiddetto non studio, non lavoro, oppure a carico dei genitori. Per le statistiche italiane vengono pensate. Ma io quando vivevo in Irlanda c'erano 5 italiani che ufficialmente erano a carico dei genitori in Italia. Praticamente lavoravano là. Come li vogliamo chiamare queste persone evasori fiscali? C'è un'evasione minima. Però diciamo lo Stato italiano non riesce ad avere quel controllo che riescono ad avere i Stati del Nord Europa anche a causa di questioni di tipo culturale. Questioni di tipo culturale, di prestazioni offerte, di questioni. Quindi questa è una cosa che noi ritroviamo costantemente in tutta la scintola del pellegrino. Stati che non hanno il controllo effettivo del territorio. Ci fu famosa la dichiarazione del Strauss-Kahn, vicepresidente del vecchio Presidente del Fondo Monetario Internazionale, quando affermò, facendo una visita, abbiamo proposto un piano alla Grecia perché pensavamo che la Grecia fosse uno Stato. La Grecia non è uno Stato, è un insieme di clan. Che anche questo riguarda tutta quella che è la storia della scintola del pellegrino. Storia di invasioni per cui lo Stato significava la presenza di un potere straniero. Il potere straniero era poi quello che sempre portava via le donne perché poi tutto si riduce a questo concetto e quindi lo Stato ha visto come qualcosa da temere. Nel nord Europa, a causa di tutta la serie di servizi dati alle persone, lo Stato ha visto qualcosa in cui ne può venire a far parte. ricordiamo, insomma, anche la dichiarazione di un nostro comune norvegese, un nostro amico che conosciamo sia io che te, che ero web, a fronte della cosa dice sempre io non ho nessun motivo per essere, per evadere le tasse perché lo Stato è lì per me. Un concetto che a livello italiano, a livello in genere sud Europa non esiste. Non esiste perché? Perché la Norvegia sono tutti stati che hanno subito un numero molto inferiore di invasioni e la presenza di questi bambini randaggi, di questo Stato che si prende cura, ha portato a sapere le varie persone che hanno tutta una serie di servizi, di servizi che in sud Europa noi ci sogniamo. Che in sud Europa noi ci sogniamo perché se facciamo un esempio, uno Stato come la Lettonia, diciamo, povero economicamente, uno Stato come l'Italia, vediamo che gli assegni familiari sono molto più alti in Lettonia che in Italia. Per quale motivo? Perché è la cultura, comunque la cultura dello Stato che pensa alle sgrillettate, che pensa ai bambini e si sostituisce economicamente al padre molto forte. È molto forte all'interno dei servizi e sappiamo quindi che crea un clima più rilassato in tutte le fasi, per cui anche il matrimonio non diventa più un contratto con la morte come può essere in sud Europa, in cui tu sei, ma diventa qualcosa in cui se va male non c'è problema, ci pensa lo Stato. Volendo tracciare geograficamente una linea che separa i due emisferi, per quale città passa questa linea? Questa linea passa per Vienna, passa per Marsiglia in Francia, passa diciamo per il, passa assolutamente per il confine russo-georgiano, passa per il taglio a metà il Kazakistan, il Turkmenistan e arriva fino a, e arriva il confine russo-mongolo. Questo porta, è una linea piuttosto estesa ed è una linea molto interessante, perché delle popolazioni che noi potevamo non considerare come gli armeni, pure gli armeni fa parte come concezione culturale. I georgiani, gli stessi tartari fanno parte di quella che è quella cintola. Naturalmente, avendo più contatti o meno, ne risentono più o meno alcune caratteristiche, ma i tratti salenti si ritrovano. Tra le altre cose, questa linea nella storia è stata anche messa in evidenza per i commerci che ne derivavano. Per esempio, il liquore nazionale russo, ovvero la vodka. La vodka è nata dallo scambio di acquavite da parte dei genovesi che a quel tempo occupavano la Crimea, perché la Crimea comunque era terra di proprietà dei genovesi. Incominciarono a commerciare l'acquavite, a quel tempo, siamo intorno al 1460, a quel tempo lì completamente sconosciuta ai russi, in cambio di donne veniva scambiata l'acquavite in cambio di schiavi e donne. Alcune persone non sanno nemmeno che, ad esempio, nella stessa indipendenza bulgara c'è stato uno scambio fra la prima produzione di whisky in Bulgaria, nasce perché gli aristocratici se volevano l'appoggio russo e hanno scambiato l'appoggio russo alla guerra contro la Turchia in cambio di vasti quantitativi di whisky. Cioè, uno sembra Alessandro, lo Zara Alessandro, il grande ribidatore della Bulgaria, se non mi sbaglio, intorno agli anni 70-1878, in realtà c'è fu l'apertura del commercio fra Bulgaria e Russia per quanto riguarda whisky, vino e derivati. Quindi ci abbiamo incontrato nell'accordo con quello che poi sarebbe diventato il primo re bulgaro, c'è proprio scritto che la Bulgaria si impiega a supporto di anni a fornire ingenti quantità di whisky, che è una cosa pazzesca, insomma, per fare in una guerra in cambio del supporto per i whisky, generato, considerato dallo Zara Alessandro uno degli ottimi, molto migliore del whisky scozzese, più pregiato è quando probabilmente poche persone sanno che la Bulgaria è una delle produzioni di whisky. Tra le altre cose c'è anche da dire che i paesi della cintola della spugna hanno visto nascere la produzione di alcol molto in là nel tempo, per cui è anche una cosa genetica, nel senso che le popolazioni italiche l'alcol lo riescono, il corpo lo riesce a smaltire l'alcol, ha il corpo al suo interno degli enzimi che neutralizzano gli effetti dell'alcol, per cui lo soggetto beve, si può a un certo punto ubriacare, però non viene soggetto alla assefuazione che dà l'alcol, per esempio nei popoli slavi. Il popolo slavo quando assume l'alcol, perché da lui l'alcol è apparso solamente in un'epoca molto recente, è questo elemento nuovo a cui l'organismo non è abituato e quindi nei suoi confronti esercita una certa assuefazione. Una certa assuefazione, poi tra le altre cose i popoli slavi non vengono assolutamente l'alcol, quando ne ingeriscono una certa quantità, li vedi proprio che barcollano, cioè li vedi proprio che barcollano, camminano tutti inclinati di 45 gradi, che ondeggiano nelle strade, poi camminano, cioè non è come all'italiano che si ubriaca, quel al massimo va a vomitare o arriva, va a letto e mi fa ma non sto bene, però proprio dà degli effetti allucinanti, uno si pesa ma deve aver bevuto 5 bottiglie per stare male in quel modo, no, è perché proprio i popoli slavi non hanno nel loro DNA sviluppato, non hanno nel loro corpo quell'enzima che combatte l'alcol, per cui nel loro DNA non vi è la difesa naturale dell'alcol, questa difesa invece vi è nei popoli italici perché l'alcol, anche comunque considerato l'alcol nella sua forma lieve, ovvero il vino così, vi è da oltre 2000 anni, per cui noi sappiamo benissimo che l'alcol è anche una causa di morte perché provoca cirrosi, provoca delle malattie che sono conseguenze dell'abuso di alcol, quindi essendo causa di morte crea anche una selezione naturale, l'uomo che geneticamente ha una presisposizione resistente all'alcol sopravvive, quello meno resistente cade in assuefazione subria che muore perché gli viene distrutto il fegret, compagnia bella e quindi generazione su generazione, generazione si è selezionato un uomo molto più resistente dell'alcol, tra le altre cose i popoli slavi hanno anche un 40% di sangue mongolo tartaro, proprio anche riallacciandoci a quel discorso che dicevi te, delle popolazioni che arrivano sul territorio, stuprano e poi saccheggiano e poi se ne vanno, i popoli slavi hanno nel loro sangue, nel loro DNA un 40% di componente mongolo tartaro e la componente mongolo tartaro, comunque tutto sommato la componente genetica asiatica è assolutamente priva delle difese dell'alcol, se noi diamo a un mongolo tre bicchierini di rotka, quello stramazza terra e si mette lì a... Sì sì, esiste anche questa questione, tant'è gli stessi arabi, gli stessi asiatici, gli stessi ducchi sono famosi perché fu proibito, fu proibito da un momento appunto l'utilizzo dell'alcol per vedere gli effetti paurosi che dava contro, diciamo, con le popolazioni arabe. Sì, infatti anche lo zar di Russia, quando i genovesi incominciavano a vendere ai russi l'acqua vite tradotta in russo acqua voda, per cui da voda deriva il nome vodka, quando i genovesi incominciavano a trattare e a diffondere la vodka in Russia, lo zar si rende conto del problema e subito vietò il commercio, la produzione e la vendita di vodka in tutto il territorio, perché la vodka nei confronti di popolazione che non hanno una storia antica nei confronti dell'alcol fa veramente un brutto effetto, è come i popoli che non hanno nel DNA la componente che combatte l'alcol. La vodka crea un effetto di dipendenza tipo droga, sono come drogati, per cui lo zar, avendo anche il compito di fare da padre per la sua popolazione di tutelarla, la prima cosa che ha fatto capendo il problema è stato creare creare degli emendamenti che proibissero la distribuzione del commercio di vodka. Sì sì, ma infatti poi vediamo la stessa cosa che successe in Italia con la prostituzione, per quale motivo? Perché abituati a una mancanza pesante abbiamo nel senso la reazione quale fu che per tutelare l'ordine pubblico le soluzioni potevano essere o farla sacra o renderla sacra o renderla pro, o probirla totalmente. Essendo un paese tradizionalista ci si scelse di probirla totalmente, quindi noi vediamo il cliente ancora oggi rappresentato come una sorta di mostro, una risultata di mostro pesante che si mangia donna a causa del cui, ma in realtà la prostituzione esiste perché esiste quel tipo di società che si è creata nel corso degli anni, un certo atteggiamento nel corso degli anni in cui i rapporti diretti fra uomo e donna sono tutti improntati alla mercificazione. Quindi anche questo, se vediamo, insomma, quando arrivano dalla scintola della spugna le donne, nei primi tre mesi si comportano come a casa, dopo il terzo mese incominciano a capire che la situazione è diversa e quindi possono anche chiedere un prezzo per i loro servigi. Quindi questo è già una cosa abbastanza forte. Vediamo certi atteggiamenti presenti anche in molte popolazioni. Quindi questa, diciamo, è una cosa anche importante, diciamo, ognuna delle due popolazioni, due filoni culturali si forma in base al filone, alla cosa che gli manca. Ai sud europei mancano le donne e a nord Europa manca l'alcol. E la Bulgaria, approfittando di queste carenze note nei due emisferi, ha fatto da tradunion, ovvero da punto da flusso per le varie popolazioni dei vari versanti, a te manca questo, io ti do questo, a te manca quest'altro, a te ti prendi quest'altro, ed è riuscita ad incrementare la propria economia proprio facendo leva su questa constatazione geopolitica. Adesso direi l'intervista si è prolungata anche fin troppo a lungo, direi se hai qualche cosa di aggiungerlo qui sul finale e di salutare i nostri amici. Non c'è niente da aggiungere in questo momento, quindi ci sentiamo alla prossima. Ok ragazzi, un caro saluto a tutti da parte mia e ci sentiamo alla prossima.